La sostenibilità del sistema sanitario nazionale, come deve essere affrontata questa fondamentale criticità? Io credo che sia innanzitutto importante partire dall'integrazione sanitaria e sociale, il che significa anche un rinnovato patto fra Stato, Regioni, Comuni, per condurre a integrazione le risorse attuali del Fondo Sanitario Nazionale con le risorse che vengono destinate all'indenità di accompagnamento in modo particolare o comunque la spesa assistenziale per la disabilità e con le risorse dei Comuni per la spesa destinate alle attività sociosanitarie. Questa integrazione consente di raggiungere l'obiettivo della propriatezza e la propriatezza della risposta ai bisogni di salute a partita dalla prevenzione consente di ottimizzare le risorse, di dare più servizio a minore costo sulla base quindi di un sistema che rimane federale ma nel quale si introducono criteri di responsabilità come sono disposti dalla riforma del federalismo che si tratta ora di applicare, di attuare anche negli aspetti sanzionatori come il fallimento politico degli amministratori incapaci di rispettare quegli standard.